Arriva dall'ente scuola edile CPT della provincia dell'Aquila una proposta per aumentare il livello e l'organizzazione della sicurezza nei cantieri edili. Il piano di canterizzazione. A spiegarlo è il direttore dell'ente scuola edile CPT della provincia dell'Aquila, Lucio Cococcetta. È una proposta per una progettazione della sicurezza pensata a monte, cioè prima dell'attivazione dei cantieri, a supporto dei piani di ricostruzione. Quindi è uno studio generale che regolamenta la sicurezza dei lavoratori durante le fasi di lavorazione nell'attivazione dei cantieri, tenendo conto delle interferenze derivanti dalle gru, dalle macchine operatrici, dall'attivazione di cantieri limitrofi e contigui. Quindi è una regolamentazione a monte che riguarda la sicurezza delle maestranze. Pensata a monte, però, prima dell'attivazione di un cantiere. Cosa che potrebbe portare molti vantaggi poi dal punto di vista pratico? Porta sicuramente molti vantaggi e soprattutto dei benefici per coloro che quotidianamente operano il cantiere e soprattutto anche per l'ente gestore, diciamo che potrebbe essere un comune, che potrebbe essere anche in forma generalizzata una riqualificazione di un intero quartiere o anche un sito post-industriale. Nel senso, quello che si sta cercando di realizzare in sinergia con l'università è una linea guida per arrivare a definire concretamente la progettazione della sicurezza dalla fase di ideazione di un complesso aggregatizio, non soltanto di un intervento puntuale, bensì di una forma massiva di interventi.